I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento, chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi, di conseguenza gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio, CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 79.27% e il 73.32% dei conti di clienti al dettaglio perde il denaro facendo trading con il CFD rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL EUROPE LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è l'ennesimo webinar sul termometro Forex, quindi con me c'è Salvatore Labriola, programmatore e trader, io sono Giuseppe Cericolo, account manager d'Italia di TICMIL. Allora, molti di voi già sapranno come funziona un po' il webinar, cioè la presentazione del broker, però questa volta vi faccio vedere un video su TICMIL che è stato premiato come miglior broker, migliore esecuzione nell'industria del Forex, quindi siamo stati premiati a Londra. Questo è il nostro CEO Duncan Anderson e questo ovviamente grazie anche a tutta l'infrastruttura che abbiamo, i 10 server sparsi per il globo che ci permettono di garantire una velocità di esecuzione pari a una media di 0,1 secondo. Poi ovviamente tutti i fondi sono assicurati fino a 50.000 sterline, abbiamo una forte regolamentazione con la FCA UK, quindi conti anche segregati. Questa è la mappa dei nostri server, oggi vado un po' veloce perché dobbiamo cercare di fare tutto in un'ora. Questo è TICMIL, i nostri spread e commissioni a confronto con altri competitor, questo è un sito esterno di MyFXbook, potete visualizzare voi stessi anche in tempo reale. Vedete che per la maggior parte del tempo le caselle relative agli spread sul TICMIL sono quasi sempre illuminate di verde, quindi significa che abbiamo i migliori costi attualmente sul mercato dell'industria del Forex, quindi comprensive di commissioni. Qual è il programma del webinar di questa sera? Allora, ci sono nuove funzionalità, quindi io adesso lascerò la parola a Salvatore che ci spiega le nuove funzionalità, questo perché ovviamente noi siamo i primi ad utilizzarle, quindi anche poi prendiamo i suggerimenti che ci arrivano dagli altri trader che lo stanno utilizzando, quindi cerchiamo sempre di migliorarle, quindi abbiamo inserito tre nuove funzioni, quindi l'inserimento dello stop antirovina, la base del calcolo percentuale su base giornaliera mensile e annuale e la memorizzazione dei parametri inseriti, questa è una cosa molto importante. E poi nelle strategie vedremo come si può costruire una strategia utilizzando il termometro Forex per chi è per un conto poco capitalizzato e che magari è anche la leva ridotta dalle recenti disposizioni ESMA, quindi cercheremo di capire come sfruttare al meglio queste limitazioni, sfruttando appunto la protezione del saldo negativo, ma poi entrerò bene nel dettaglio e quindi poi le relative correlazioni nel Forex. Poi l'altra strategia che andremo a vedere è una strategia multi time frame con una gestione separata quindi per time frame partendo dal grafico H1 fino al grafico weekly. Ovviamente queste sono idee, quindi sono degli spunti, non c'è nulla di sicuro in questo, ovviamente io come sapete sono anche un trader, quindi provo giorno per giorno e sono anni che comunque provo sempre con nuovi progetti e quindi quando ci sono delle nuove intuizioni o comunque con Salvatore e con altri trader vediamo comunque qualcosa che può funzionare, siamo i primi a testarlo e quindi poi proponiamo in maniera del tutto gratuita questo e questi studi. Allora, Salvatore io mi sposto sul grafico, tu sei pronto vero? Sì, su una demo se è possibile. Allora demo. Devi aprire delle posizioni? Eh, se è possibile sì. Allora, spiegherò molto brevemente queste nuove funzionalità, vi prometto che sto lavorando ad altre funzionalità, questo sarà il penultimo upgrade probabilmente, poi ve ne farò un altro, l'ultimo che ancora non ho completato e lo vedremo magari successivamente, adesso vi voglio far vedere queste modifiche che ho apportato. Ok, aspetta che sul conto demo ho la versione precedente, quindi la sto un attimo. Sì. Entendo. Ok, questo è il... Damielo ok un attimo, fammi capire una cosa. Fai uno switch di time frame? Ritorno sull'H4, dove vedo? Ok, vai. Ok, allora, variabili esterne, F7, quindi scendi giù fino... No, fermati qui. Ecco qua, questo set stop loss and take profit. True o false, volendo, potete attivarlo, questo true, ecco, attivalo. Potete andare a mettere un, di default abbiamo messo 200 pip, potete andare a settare uno stop loss e un take profit per ogni operazione, sia aperta da basket, sia quelle aperte singolarmente. In questo modo, perché mi è stato richiesto, la possibilità appunto di mettere uno stop, diciamo così, antirovina, non lo chiamiamolo così, di protezione, qualora, non lo so, la notte spegniamo la piattaforma, abbiamo comunque uno stop in macchina. Per vederlo adesso lascio la true e poi lo vediamo dopo con l'operazione aperta. Scendi un attimo giù. Take profit 100? 200, sì, come take profit. Questo l'avevamo già visto la scorsa volta, il valore assoluto, oppure il percentuale sull'equity, sia del profit sia del trading stop. Eccolo qua, sì, base calcolo percentuale. Potete decidere di vedere la performance che fa ogni strumento su base giornaliera, mensile o annuale. Annuale significa dall'inizio dell'anno, mensile dall'inizio di questo mese e giornaliero giorno su giorno. Quindi lascio così annuale e daglielo ok. Quindi hai inserito lo stop loss e il take profit su singola posizione, giusto? Esatto, esatto. Quindi nelle variabili esterne c'è lo stop loss, il take profit su singola posizione, più il rispetto alla precedente versione, più base calcolo percentuale. Quindi possiamo scegliere tra giornaliera, annuale e mensile. E mensile. Queste come variabili esterne inserite? E adesso tutti quei numeretti che vedete sotto è la performance di, che non so, aerodollaro, che sta facendo, che non leggo bene, 4%, non vedo bene? Sì, allora aspetta che vado a evidenziare. Quindi qui, questa è la percentuale di inizio anno dell'euro nei confronti del dollaro, quindi sta pagando circa il 4%. Se in rosso vuol dire negativo, se in verde vuol dire positivo. Quindi su base giornaliera, mensile e annuale. Andiamo ad aprire delle operazioni. Però metti il terminale sotto. Ok. Apri un'operazione, quella che vuoi. Allora, seguiamo le indicazioni, vuoi comprare dollaro contro tutti? Sì. E come vedete, vi è impostato lo stop loss e il take profit per ognuno dell'operazione. Settate come? A 200 pip di distanza, lo stop loss, due figure. Praticamente è messo 2.200 pip e 100 pip di take profit, giusto? Esatto. E lui ha settato tutte le operazioni con questo stop loss e questo take profit. Le ho inserite semplicemente per appunto, perché in teoria questo tipo di approccio andrebbe messo solo per un discorso di rovina. Perché in teoria dovreste lavorare senza stop loss e senza take profit. Però, che succede? Che se qualcuno spegne la piattaforma di notte, magari per evitare di trovarsi la mattina dopo con posizioni che perdono tanto, ho messo uno stop loss di protezione. Di defolto 2.200 pip, ma lo potete mettere a qualunque distanza voi vogliate. Queste erano le differenze per quanto riguarda le variabili esterne. La cosa più importante che ho portato come modifica è la possibilità, da oggi in poi, da questa versione 1.1, la possibilità di conservare la gestione dei trade. Provo a attivare un 9.6 su dollaro. Ok, provo a attivare il pareggio su questo basket. Se stai perdendo poco non vorrei che si attiva. Provo a attivare il pareggio, clicchi lì sopra. Si dovrebbe fare la domandina, eccola qua, chiudo. Ok, lo metti a sì, metti sì. Ok, e il tasto, come sapete, già l'ho spiegato la scorsa volta, si illumina di blu. Che succede? Che voi chiudete la piattaforma, riavviate la piattaforma, oppure fate un cambio di time frame. Provo a cambiare time frame. Molto velocemente, prima che... Ok. Chiaramente lì non già abbiamo nessuna posizione su H1. Ritorniamo su H4. Il tasto rimane blu. Cioè vuol dire che su quel basket noi avevamo attivato il pareggio e resta in essere il pareggio. Aspetta, mi dicono in chat che Gianluca mi dice che non c'è l'audio. Mi sentite, è vero? Sentite quello che sta dicendo Salvatore, giusto? Sì, ok. Allora Gianluca, forse è un problema tuo con l'audio, eh? Ok, scusa Salvatore, vai avanti. Eh, dicevo, sostanzialmente, quando poi ritornate sulla piattaforma, quindi la riavviate, oppure avete fatto questo cambio di time frame, che ricordo a me non piace molto, per tenere più grafici, più termometri su più grafici, ma qualora voi riavviate la piattaforma, lui conserva in memoria il tasto premuto. Era un tasto di pareggio e quindi lo illuminerà di blu. È chiaro che al riavvio della piattaforma, eh, io non so nel frattempo che cosa è successo al basket, ma al riavvio della piattaforma, se il basket è in positivo, lui automaticamente chiuderà tutte le posizioni. Stesso identico discorso vale per il training stop. Apri un altro basket da qualche parte? Giusto per... No, no, sempre su questo time frame. Eh, no, voglio provarlo su un'altra. Eh, così vediamo pure se c'è qualche banca. No, non le ho fatte queste pro. Provo aprire un basket a qualche parte. Aniamo su. Vendiamo. Yen contro tutti. Un po' là, non la vediamo. Eh, ho dieci piattaforme aperte, quindi... No, forse non ho cliccato. Puoi comprare... C'è qualche problema, vedi un po' apri un po' da terminare. Vai su consiglieri un attimo. Io vi ho detto no. Non qui vuoi vendere i yen contro tutti, sì. Eh, non so perché nuova. Agia, agia. E questo vuoi lo controlli. Allora... Forse sulla demo... No, è strana. Provo a dire sì, a compra. Non vorrei... No, né compra, né vedi. Prova a dirgli sull'euro. Prova a comprare il basket a euro. Ok, devi controllare allora sullo yen. Eh, probabilmente su... Ti è spuggita qualcosa, quindi... Poi questo lo controlli, tanto comunque... Diciamo che allora... Rispetto alla... Allora la versione che state utilizzando funziona bene, è vero, non avete avuto qualche bug sulla versione 1.0. Quindi questa poi magari la controlli e tanto poi vi dico che nei prossimi giorni saremo impegnati per l'investing Roma, quindi non sarà possibile darlo in tempi rapidi l'expert. Poi, Salvatore, magari controlli questa cosa e poi la passiamo comunque su... Abbiamo fatto l'altra volta. Quindi, allora, riassumendo e poi passiamo alle strategie. Quindi, cosa hai fatto? Al di là adesso del piccolo bug che c'è sullo yen, io adesso, se è su euro, metto un... E poi mi sposta di time frame. Esatto. Lui conserva in memoria l'ultimo profit e lo riaccende di giallo. Questo vuol dire, significa che da quel momento in poi inizia a ragionare sul training stop. Quindi potete chiudere e riavviare la piattaforma. Chiaramente poi bisogna vedere il profitto che vi trovate in quel momento quando riavviate la piattaforma. Se rispettava le condizioni di chiusura, cioè nelle variabili esterne avete messo che dovevate perdere il massimo 30 euro, lui dall'ultimo valore che tiene in memoria se sta perdendo oltre i 30 euro vi chiuderà tutte le posizioni. Io non so nel frattempo che cosa è successo, ma so che cosa volevo da prima, così ragiona un expert. e mi riaccende i vari pulsanti, così non li perdete più in memoria, altrimenti era un vero problema questo. Se tu ritorni sul time frame, non mi ricordo dove era H1, eccolo qua, un secondo che gli dici, ok, si è acceso. Si è acceso il pulsante e lui inizia a ragionare sulla base delle condizioni che avevano stabilito. Per il training stop. Questi sono gli app che bisogna portare. E' molto importante perché così anche se spegniamo la piattaforma o comunque facciamo uno switch di time frame, mantiene in memoria quello che abbiamo inserito. Esatto, esatto. Questi sono gli upgrade. Vabbè, poi controllo se c'è qualche bug, ma mi sembra un po' strana sta cosa. Comunque la controllo, tanto mi prendo qualche altro giorno perché siamo impegnati a Roma, quindi se ne parla sempre la settimana prossima, e vi consegno, vi consegno questa versione 1.1. Era un più che d'altro la mia curiosità. Come mai? Che me ne ho provate. Ma mi sembra che ha sfuggito qualche cosa. Basta una virgola in questi casi. Prova chiudo il dottore posizio. Ok, dovrei chiudere lui. Funziona. A parte questa cosa poi controlla. Ok, allora, vi piacciono le nuove funzionalità? Soprattutto quest'ultima, che comunque credo che sia molto importante. Ok, allora, questa qui. Sì, molto apprezzato. Allora, adesso passiamo un po' alla fase operativa. Ok, io ti passo la parola, adesso devi spiegare le strategie, giusto? Esatto, sì. Ok. 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 Allora, innanzitutto, può capitare spesso che, non so se sicuramente ci avete fatto caso, questo poi finché Salvatore lo metterà nell'ultimo upgrade, il controllo dell'esposizione per ogni singola valuta, quindi mi riferisco a questo. Noi, quando apriamo un basket, ovviamente noi non sappiamo, se apriamo diversi basket, non sappiamo, ad esempio, su euro-dollaro, che esposizione abbiamo, proprio perché comunque è complessiva, quindi ad esempio se abbiamo quattro buy su euro-dollaro, questa cosa attualmente non è possibile saperla, e quindi nell'ultimo poi aggiornamento che farà sul telemetro Forex, Salvatore sta aggiungendo proprio questa funzionalità, in modo tale che noi possiamo sapere per ogni singola, per ogni singolo cambio, comunque cross, che tipo di esposizione abbiamo. Un modo per controllarlo comunque c'è, sull'esposizione, andando a vedere sulle posizioni, diciamo short, quindi non sul long, proprio perché sull'esposizione che vi dà comunque il volume della metatrader, vi dà sempre quella della valuta base, che se avete il conto in euro vi dà il 90% euro e ad esempio 10% dollari, mentre se andate nel diagramma e cambiate le impostazioni da long a short, adesso non ve le fa vedere perché non ho nessuna posizione, comunque potete avere una panoramica delle posizioni aperte per singola voluta, quindi avete questo diagramma qui, con le posizioni che diciamo hanno più esposizione sul conto. Quindi, allora, adesso cerchiamo di farlo in maniera molto operativa e concreta, questo tipo di approccio. Allora, che cosa si può fare su un conto da 500 euro come in questo caso? Allora, io da un po' che ho iniziato a fare alcuni studi su questo tipo di termometro Forex, basandomi sulla correlazione. Allora, quindi ho iniziato a fare un po' di prove, andando a lavorare sui vari basket, ma cercando di utilizzare la correlazione. Quindi, attualmente, sta andando molto bene, ho raggiunto gli oltre 100 trade, però sono ancora pochi, quindi diamo almeno un trimestre per giudicare se questo tipo di operatività può andare bene, però io comunque adesso vi condivido un po' quelle che sono le mie osservazioni. Se poi ovviamente voi avete altre osservazioni sullo studio delle correlazioni, ditemelo così, magari ci confrontiamo. Vi riporto quelli che sono un po' i miei studi che sto facendo quando ho tempo e quindi anche un po' di sera sto studiando i vari approcci per cercare di rendere il meno rischioso possibile questo tipo di approccio. Allora, intanto, su un conto da 500 euro, questo è anche all'Eva 30, limitato all'Eva 30, la cosa interessante che si può avere è che, non utilizzando lo stop loss, ma la protezione del saldo negativo, noi siamo sicuri, grazie alle disposizioni ESMA, di non andare in territorio negativo e quindi questa cosa può essere sicuramente vantaggiosa. Salvatore poi ha aggiunto comunque lo stop antirovina che è una cosa in più, però magari su un conto così piccoli, sottocapitalizzati, non serve. Però il consiglio che io do è che per ogni 500 euro sul conto dobbiamo avere un'esposizione complessiva per basket di massimo 7 microlotti, quindi 0,07. Che cosa aggiungere a questo? Dobbiamo poi tener conto che, siccome comunque è sempre un approccio rischioso, proprio perché comunque siamo sottocapitalizzati, darci una regola. Ad esempio, quello che sto utilizzando su questo tipo di approccio è che ogni 15 euro di, ad esempio, di profitto faccio un trasferimento tra conti in modo tale che quello che poi vado a guadagnare lo trasferisco su un altro conto, quindi magari, che ne so, volete, avete un altro conto dove volete un approccio meno aggressivo di questo e quindi spostate i fondi oppure li prelevate, vado a un po' quello che preferite. In questo modo, comunque, l'idea quale sarebbe? Che quando si arriva a 500 euro di prelievo su questo conto da 500, si smette di prelevare e di reinvestire, diciamo, il guadagno in modo tale che poi si possa comunque tradare a costo, diciamo, zero, in quanto avete già comunque coperto la percentuale, l'importo che avete versato. Su un conto così piccolo io suggerisco di aiutarsi con le correlazioni. Allora, dovete tener conto che quando apriamo un basket, se ad esempio su un basket di euro apriamo quattro buy, ad esempio buy su eurofranco, buy su usdchf, buy su AUD CHF e su CAD CHF, quindi scusate, un basket di franco, franco svizzero, e fate tre sell su GPB, CHF, CHF, yen e NZD CHF, create una sorta di matrice, quindi di derivati, perché se ovviamente fate solo l'acquisto del basket, voi puntate sulla forza o debolezza di una determinata voluta. Però se iniziate a incrociare, quindi fate delle buy e fate delle sell, si creano comunque dei cross derivati, appunto proprio perché se io acquisto, ad esempio, faccio buy su eurofranco e sell su sterlinafranco, va da sé che è come se fossi buy su euro, su euro sterlina, perché ho comprato euro, qui compro euro, qui vendo franco, qui vendo sterlina e compro franco, il franco con il denominatore si annullano e rimane euro gpp, quindi come se fossi buy con euro gpp. Quindi è la stessa cosa su SDCHF, se faccio buy su SDCHF e sell su gpp chf, è come se fossi buy su gpp. Quindi dobbiamo tener conto di queste cose. Quanti di voi utilizzano le correlazioni in questo modo? So che molti utilizzano proprio anche una piramidazione tra i cross originari e quelli derivati, quindi molti utilizzano questo tipo di approccio. A me non piace particolarmente, perché invece di andare buy su euro-dollaro e gpp us di sell preferisco andare direttamente sul derivato per risparmiare le commissioni. Però in questo caso, andando a ragionare sul basket, noi con le correlazioni siamo un po' forzati a utilizzare questo tipo di approccio. Un'altra cosa molto importante è la copertura tra basket. Quando un basket è in guadagno, quindi l'ho fatto vedere anche in chat sulla chat Telegram, quando il basket, ad esempio stiamo guadagnando su un basket franco e perdiamo sul basket euro, va da sé che possiamo andare a coprire quella perdita tra basket. Quindi chiudiamo il basket franco e in guadagno per andare a coprire la perdita del basket euro. Quindi la copertura tra basket è una cosa molto importante da fare che ci permette comunque di dimezzare le perdite. Questo era un esempio operativo che ho fatto vedere sempre in chat dove si guadagnava sullo yen. Vedete qui, vediamo se, zoomo se si vede, forse no dalla slide. Comunque, lo evidenzio qui, vedete c'era lo yen che guadagnava circa 15 euro, poi il dollaro che perdeva meno 10 e il franco qui che andava a guadagnare circa 4,50. Quindi in questo caso che cosa si può fare? Si può chiudere lo yen con l'usd, quindi questo va a coprire questa parte qui e quindi chiudiamo con questo profitto e il franco si può decidere di lasciar correre quindi utilizzando magari anche le funzionalità che Salvatore ci ha dato quindi con il trailing stop o con lo stop a pareggio e lasciarlo correre. e quindi da tre basket quindi da tre esposizioni complessive ridurne due per far lasciarne per lasciarne poi una. Quindi questa cosa può essere molto utile e quindi vi consiglio di tenerne conto quando appunto utilizzate il basket. Allora, sulle correlazioni vedete che vi devo far vedere un po' di studi Allora vi faccio vedere una cosa però devo partire prima da qui Allora, la domanda che io mi sono posto non so se voi poi utilizzando il termometro Forex avete notato un po' questa cosa è in un mercato dollaro centrico ha senso diversificare l'acquisto o la vendita di una determinata valuta? Che cosa voglio dire? Se vado long se vedo che il dollaro è è debole il basket dollaro è debole e la sterlina il basket sterlina è forte ha senso comprare la sterlina contro tutti e vendere il dollaro contro tutti? Non so se vi è capitato di farvi questa questa domanda perché ovviamente se voi andate a aprire sette operazioni sul basket sterlina andate a pagare spread e commissioni che potreste evitare magari se decidete di puntare solo su un su un su un cambio quindi se sterlina è forte e dollaro è debole in questo caso io potrei comprare solo dovrei comprare solo sterlina dollaro a rigor di logica perché perché si presuppone che comunque la sterlina è forte quindi se il dollaro è debole deve per forza di cose salire però in realtà questa cosa non è proprio vera perché con le correlazioni la sterlina con il dollaro rispetto appunto agli altri cross mantiene una correlazione media su 50 settimane del 65% quindi se compro sterlina dollaro per il 65% del tempo gli altri cross è vero andranno nella stessa direzione ma per l'altro 35% del tempo potrei perdere comunque dell'opportunità perché la velocità quindi la volatilità che ogni singolo cross ha rispetto appunto al cambio sterlina dollaro è diversa questa cosa poi ad esempio su euro dollaro si abbassa del 45% quindi se io vado a comprare euro dollaro perché vedo che il basket euro è forte e il basket dollaro è debole per il 45% questa cosa mi verrà assecondata dal appunto dagli altri cross però perdo un 55% di possibilità di avere di usufruire che adesso poi questo esempio lo vediamo nel dettaglio perché è capitato proprio un caso in questi giorni però perché mi vado a perdere è la possibilità di prendere delle accelerazioni su altri derivati proprio perché ci sono comunque dei cross delle valute che comunque si muovono in maniera molto più violenta rispetto al cambio principale quindi al cambio contro i dollari in particolare quindi sul dollaro poi appunto l'ho fatto anche sul dollaro ovviamente mantiene la stessa percentuale di correlazione del 45% su usd yen il 58% poi si alza sul franco sul franco mantiene bene la correlazione quindi ad esempio se vedete basket forte dollaro basket quindi usd forte e il basket franco debole se comprate usd chf soltanto per l'83% delle volte diciamo questa correlazione verrà secondata anche dalle altre dagli altri cross ok mi dicono che il microfono va e viene non so perché questo problema ogni volta ok spero che adesso mi sentiate meglio non so forse è un problema di cuffia quindi dicevo che sulle correlazioni poi su aud usd abbiamo un 72% che è la stessa cosa su nz usd che sono molto correlati tra loro e quello che mantiene una correlazione molto più bassa rispetto poi alle altre valute è il cad perché se compro usd e vendo cad le altre valute diciamo andranno nella stessa direzione solo per il 33% delle volte quindi questo poi viene fatto ho fatto graficamente e quindi il franco è quello che diciamo rispetta più la correlazione col dollaro rispetto alle altre valute quindi questa cosa va tenuta conto perché vi permette anche di poter diciamo risparmiare un po' di commissioni perché se vuoi andare solo se vedo quel franco è debole magari non ha molto senso andarlo a venderlo contro tutte le altre valute lo faccio direttamente sul dollaro queste poi sono valutazioni quindi tenete conto che ogni valuta ovviamente ha una volatilità che io qui ho riportato ad esempio sul basket sterlina abbiamo su GPBUSD una volatilità media di 105 pips quello più volatile è GPBNZD con 160 pips su 50 settimane qui proprio con le correlazioni si apre uno scenario molto importante che ci permette di diversificare il rischio quindi ad esempio se voglio comprare il basket sterlina posso decidere di utilizzando le correlazioni diciamo diversificare il rischio andando a vendere alcune di queste valute inserite nel basket sterlina vedete questo grafico qui ad esempio se io compro ovviamente questa è una stima sono stime basate sulla correlazione la volatilità sulle 50 settimane quindi questi valori potrebbero cambiare quindi se io ad esempio decido di comprare il basket sterlina posso comprare ovviamente GPBUSD e quindi diciamo che nel caso dovesse andare nella mia direzione con una vola media di 50 su 50 settimane avrei diciamo un profitto di 105 pips l'euro sterlina visto che il 70% delle volte mi va contro rispetto a GPUSD comprandola quindi avrei il 55 avrei il 70% delle volte mi va dalla parte opposta quindi ovviamente se perché faccio il buy quindi vado a comprare euro e vendere sterline in questo caso quindi in questo caso avrei meno 55 non so se il ragionamento è chiaro datemi qualche feedback in chat se so che non sono forse argomenti proprio facilissimi da analizzare però comunque io ve li propongo poi in chat ne possiamo parlare ne discutiamo quindi stessa cosa su GPB yen dove abbiamo 130 pips a favore quindi se faccio un buy ovviamente su 130 pips di vola li posso prendere GPB CHF il 75% delle volte va anche dalla mia parte quindi sarebbero altri 90 pips nel mio paniere con GPB AUD anche se qui faccio un buy quindi sia chiaro io qui compro il basket sterlina perché per me magari c'è la forza su sterlina e quindi sto comprando però voglio creare una sorta di equilibrio tra le posizioni quindi compro anche GPB AUD e sulle altre due GPBN ZD e GPB CAD posso decidere di shortarle perché GPB AUD e GPBN ZD tra loro sono molto correlate proprio in virtù della correlazione che c'è tra AUD e NZD quindi posso decidere di shortare GPBNZD e quindi nel caso dovesse andare a favore la mia intuzione di comprare il basket sterlina ipoteticamente avrei un meno 160 contro stessa cosa su GPB CAD meno 136 quindi andandoli poi a fare a metterle su un grafico avrei GPBUSD GPBN GPBCHF GPBAUD che vanno dalla mia stessa parte comprando questo è sempre ovviamente una stima e mentre Euro GPB e GPBNZD e GPBCAD mi andrebbero contro comprando questo il basket dovete tener conto che su un lotto ogni pips ha un valore diverso che io li ho riportati già qui questa cosa l'ho fatta solo sulla sterlina perché era troppo farla sugli altri però giusto per darvi l'idea e quindi ipoteticamente sì queste slide vi do tutto mi fa piacere che in chat sia chiaro e che appunto apprezzate questo lavoro allora quindi se io compro un lotto di ogni cambio e cross con questa volatilità con questa correlazione ipoteticamente il mio basket mi andrebbe a guadagnare questa somma di 1300 euro con questa volatilità se ovviamente va dalla mia parte e se queste correlazioni dovessero venire rispettate questo ovviamente sulla carta quindi non non è nulla di concreto però questa cosa al momento sta funzionando molto bene adesso la andiamo a replicare proprio in concreto in modo tale che vi posso dare comunque un riscontro anche abbastanza ancora più oggettivo però vi dovevo far vedere questa cosa su euro dollaro perché devo ricordare solo dove l'ho messo ecco qua allora perché l'obiezione che è appunto quella che ho fatto prima ha senso se euro è forte dollaro è forte è debole perché mi devo andare a comprare tutto il basket semplicemente vado long di euro dollaro allora adesso vediamo proprio un caso che è successo su euro e usdi dove sapete che con l'f7 potete fare una sorta di backtest del termometro andando a prendervi la candela di riferimento quindi quattro giorni fa il termometro già mi segnalava debolezza sull'euro e forza su dollaro ma veniamo come si è costruita questa debolezza perché ovviamente ogni cambio ogni cross ha avuto una sua velocità ad esempio su euro dollaro è partito molto bene perché ci ha dato circa 122 pips però se avessi soltanto shortato euro dollaro mi sarei perso magari il dove euro cad l'avevo visto qui mi sarei perso magari il forte ribasso su euro cad che me l'ha dato qui quindi 1 2 3 4 quindi su euro cad ne ha fatti 390 di pips contro i 120 di euro dollaro quindi poi su euro franco invece non ha fatto nulla praticamente è rimasto sul prezzo obiettivo quindi anche se avessi venduto l'euro contro il franco comunque avrei perso poco e di pips di questo non c'entra nulla euro nzd vedete che tipo di andamento poi ha avuto molto diverso quindi diciamo che andando poi a sommare perché l'ho inserito in una tabella quindi dalla vendita di quel basket lì avrei ricavato all'incirca 146 pips quindi io non so ovviamente qual è la valuta più veloce in questo caso è stato l'euro cad ma poteva essere benissimamente anche un euro yen che si muove molto veloce e quindi diciamo che la forza la debolezza di euro si è spalmata sull'intero basket poi c'è quel basket quella diciamo quella valuta che è ritornata indietro perché magari nel frattempo nzd è diventato forte quindi magari su euro nzd ho perso e quindi si è mantenuto comunque un equilibrio nel basket quindi ecco che comunque ha un senso andare a vendere l'intero basket invece che andare a lavorare solo sul cambio principale che è euro dollaro questa cosa è molto secondo me è un valore aggiunto allora adesso inseriamo anche dei filtri quindi allora sul conto piccolo adesso io andrò a lavorare su questo basket quindi aprendo poi delle posizioni e la diciamo la peculiarità di questo basket del fatto di avere un conto così comunque sottocapitalizzato è quello di poter sfruttare un po' tutti quelli che sono i vari studi filtri che uno può avere ad esempio adesso qui abbiamo euro debole forza sul dollaro gpb debole e cad forte sì max allora max mi chiede può ripetere l'individuazione della debolezza su euro allora l'euro sì sull'euro max sono diversi giorni che comunque il termometro segnala debolezza e quindi su euro l'ha fatto quattro giorni fa sullo specifico su euro dollaro però tutto il basket appunto è stato segnalato quattro giorni fa questo è il basket di quattro giorni fa questo qui che stiamo vedendo adesso sull'indicatore quindi se tu avessi venduto euro quindi la debolezza di euro e comprato il dollaro avresti comunque guadagnato sull'intero basket proprio perché tra queste valute quella che si è mossa in maniera molto violenta è stata il CAD quindi su euro CAD poi avresti guadagnato ti avrebbe anche coperto diciamo le perdite su ODN ZD allora aspettate che io mi sono segnato un po' tutto quindi devo cercare di seguire un filo ok allora io mi aiuto in questo modo con adesso sul aspettate che vado sul conto da 500 ok allora abbiamo debolezza su euro e forza sul dollaro allora io una cosa che faccio spesso è quella di andarmi a vedere gli indici valutari allora non so se conoscete il sito MATAF però MATAF da qui vi fa vedere un po' tutti come sono messi gli indici valutari quindi vi fa già una sorta di storico che poi voi potete fare una comparazione tra euro con GPP vedere un po' come sono messi e vi fa diciamo questo tipo di confronto e quindi vediamo che il CAD ad esempio qui è forte con un 1,95% poi abbiamo in rosso il dollaro e poi ve lo fa anche graficamente allora sugli indici valutari abbiamo forza di dollaro qui possiamo applicare due tipi di filtri uno è quello tecnico quindi andare a seguire l'analisi tecnica quindi ad esempio sul dollaro siamo sopra in maniera molto semplice e banale siamo su una media mobile siamo sopra una media mobile 100 quindi mi prendo questo filtro e vado solo long di dollaro quindi quando vedo forza sul basket compro quando vedo debolezza compro lo stesso perché ho applicato un filtro e diciamo che in questo modo il termometro forex mi dà un timing di ingresso quindi mi dice quando devo entrare quindi io non so vedo dollaro forte e perché sopra la media mobile quindi decido di assecondare questa tendenza rialzista e quindi decido di comprare sia la forza che la debolezza un aspetto però da da tener conto che io analizzo quasi sempre sono le onde rialziste allora adesso per me se vedete credo che siate d'accordo com'è chi fa comunque analisi tecnica il dollaro sta salendo bene sono già uno due tre quattro giornate rialziste più queste quindi sono già diversi pips di che ha fatto quasi quasi senza respiro quindi è probabile che mi vada a ritracciare quindi a farmi un respiro anche perché l'RSI sul due periodi è molto alto e quindi è probabile che possa magari respirare quindi è vero che c'è forza io la voglio assecondare questa forza però non mi fido al cento per cento e quindi vado con le correlazioni quindi primo primo input dollaro lo devo comprare ok perché è forte quindi in questo caso partiamo da euro dollaro ricordate che devo comprarlo quindi siccome allora è il denominatore qui non devo fare buy ma devo fare sell l'unica cosa che devo controllare è la size ok 001 quindi allora euro dollaro lo andiamo a vendere quindi vendo euro compro dollari gpb usd che so che è correlato molto con euro dollaro qui già posso magari sfruttare la correlazione e quindi faccio un buy e quindi in questo caso è come se avessi zerato l'esposizione usd yen lo compro usd chf lo compro quindi sono 002 audi usd allora audi usd so che è correlato molto con nzd usd poi queste cose qui per chi diciamo non ne ha sulle correlazioni mi scrivete vi mando questo file molto utile dove mi prendo le correlazioni anche se questa cosa ci sta pensando salvatore con creando direttamente le correlazioni sul termometro forex come ultimo upgrade però se magari non conoscete bene le correlazioni vedete questo file excel voi scrivete audi e nz usd e vi dà la correlazione sul diciamo che su 50 settimane ha una correlazione nel 90% quindi potete sfruttare questa indicazione quindi audi usd in questo caso io posso decidere di dimenderlo perché devo comprare sempre dollaro allora usd cad visto che il cad vedete che già è forte quindi io in questo caso vendo usd e compro cad cioè sto creando una sorta di equilibrio tra utilizzando le correlazioni quindi sono sempre buy di dollaro però mi sto un po' diciamo aiutando un po' con le correlazioni in modo tale che se dovesse andare male comunque magari qualcuna va dove dalla mia parte qualcun'altra no però poi posso gestirle se poi cambiano un po' queste situazioni di forza o debolezza sul termometro forex e nz usd visto che audi usd l'ho venduto dove vado a comprare vedete che già mi ha calcolato l'esposizione e sono comunque buy quindi forza di dollaro e e e quindi su sul dollaro sono diciamo in esposizione long allora poi su l'euro che è debole qui posso decidere di mettermi un altro filtro di tendenza io vi sto facendo vedere questi studi poi voi decidete se è una cosa che può fare a caso vostro oppure no seguirlo o non seguirla allora sull'euro ad esempio posso decidere di seguire il cot quindi mi vado a vedere come sono posizionati i grossi speculatori lo devo solo trovare allora euro questo è un piccolo bug di questo sito bar chart che anche se cambio time frame allora vedete non so se si vede bene però i grossi speculatori hanno iniziato a comprare euro dollaro sono i large speculator quanti di voi seguono il cot report vediamo se c'è qualcuno che utilizza salto arenamente ok per me è un strumento molto forte molto utile quindi sul cot ci sono parecchi studi interessanti che si possono fare allora seguendo in maniera molto banale il 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 cot report quando i large speculator quindi questi qui questo che colore è verde iniziano a comprare lo facciamo anche noi quindi su euro quando avrò forza comprerò quando avrò debolezza sul termometro forex deciderò di comprare quindi il filtro adesso su euro è abbiamo i large speculator che sono comunque long quindi su euro dollaro questa debolezza invece di venderla la vado a comprare oggi è mercoledì tenete conto che questo aggiornamento sul cot c'è stato venerdì quindi fa riferimento a martedì l'euro dollaro ovviamente non è che se i large speculator sono long magicamente l'euro dollaro sale comunque ci possono essere delle fasi di drawdown che possono essere anche abbastanza prolungate però statisticamente ci sono diversi studi che dimostrano comunque l'affidabilità del cot però siccome non ci fidiamo al 100% anche qui facciamo una diciamo una facciamo una ci aiutiamo con le correlazioni vedete questo margine che comunque con le disposizioni ESMA comunque abbiamo ancora abbastanza margine tenete conto che per ogni microlotto vi chiedono circa 30 euro di margine allora su euro dollaro poi però la cosa quindi euro dollaro io decido di comprarlo però vedete che il margine adesso si è abbassato perché la cosa buona adesso non so altri broker però credo di sì comunque con Tickmill ovviamente se mi edgio quindi se diciamo questa sorta di copertura momentanea perché io sto ragionando per basket quindi ogni basket per me ha una sua vita e quindi anche se poi tecnicamente mi vado è come se fosse un aging comunque qui la gestione temporale che è diversa perché se domani questo basket di euro mi guadagna che ne so mi guadagna un tot di pips io lo chiudo e mi rimane aperto quello di dollaro deve essere chiara questa cosa non è che stiamo andando adeggiarci con con tra valute no perché proprio l'idea di fondo del telemetro forex è che si deve ragionare per basket quindi non più per singolo cambio derivato ma appunto sull'intero basket quindi su euro dollaro siccome qui io avevo sul dollaro lo avevo venduto e qui ovviamente il margine mi si abbassa euro yen euro gpb e questo posso simulare la stessa cosa che ho fatto vedere qui senza perdermi troppo in chiacchiere vediamo dove era mi vado a copiare questa proiezione che ho già fatto cioè questa proiezione questa stima e nel caso io dovesse acquistare euro quindi mi devo comprare euro mi devo comprare sterlina poi buy sterlina buy euro yen buy euro franco quindi questa cosa una volta che ve la siete già creata comunque questa stima non dovete stare lì a pensare ma devo entrare buy o no copiate semplicemente queste disposizioni poi se vi serve il file ve lo do e così poi decidete se seguirlo oppure no qui quindi vendo euro cad e vedete si è abbassata quindi sono esposto in buy su euro ok allora poi l'ultima vediamo sono le sette allora gpb cad vedete che io ho il margine sono quasi arrivato al margine quindi la cosa anche diciamo buona di questo tipo di approccio è che è direttamente il capitale a dirmi di stopparmi quindi di non inserire troppe operazioni e quindi magari di cercare di ottimizzarle in maniera in maniera diciamo tra i vari basket in maniera proficua ad esempio su gpb che è debolezza posso sempre utilizzare il filtro o del cotto dell'analisi tecnica vi faccio vedere cosa una cosa molto interessante sempre sul cotto report non so quanti di voi la utilizzano questa cosa ma i commercial diciamo che creano una sorta di come chiamarlo ipercomprato o ipervenduto che negli anni si è dimostrato comunque sempre molto valido cioè cosa significa quando i commercial arrivano oltre centomila contratti il prezzo inizia a invertire ad esempio il massimo dei contratti che i commercial hanno fatto su GPB è di circa centoquattromila contratti vedete più o meno in questa zona quindi ipotizzare una costruzione di una sorta non chiamiamola griglia ma comunque una posizione iniziare a comprare perché voi ovviamente dovete andare contro i commercial però se i commercial hanno sono in buy di centomila significa che storicamente hanno raggiunto la capacità massima dei contratti e quindi da lì inizieranno a venderlo per vendere sterlina quindi quando arriva a centomila si deve fare ovviamente quello che fanno i commercio quindi comprare quindi se io vedo a centomila i contratti sui commercio posso iniziare a comprarli e quindi su sterlina io dovrei andare buy proprio in virtù sul fatto puntando sul fatto che questo tipo di esposizione dei commercial sia arrivata alla fine e che quindi da qui i commercial iniziano a aprire delle posizioni short sulla sterlina io invece compro proprio perché storicamente comunque poi lo potete vedere voi stessi da se lo mettiamo su cinque anni vedete che i commercial non hanno non sono mai andato io oltre i centomila contratti vedete queste queste diciamo una sorta di iper comprato e adesso siamo proprio in questa zona quindi tra ovviamente vendere la sterlina con questa situazione qui io non la vendo la compro quindi quella debolezza che vedo la devo comprare cancella tutto ok quindi quindi allora devo comprare la sterlina gpb usd vedi salvatore ci sei salvatore non c'è più la cosa che manca al termometro forex che poi aggiorneremo è che io non so ad esempio adesso come sono già esposto su gpb usd visto che comunque ho già operato su due basket quindi questa cosa qui andrebbe un po' messa in modo tale che se io qui sotto ho un'esposizione di gpb usd ad esempio già sono short e anche qui sono short posso decidere comunque di non andare aprire di non andare aprire comunque un'altra posizione su gpb usd però questa cosa poi magari appunto verrà fatta a breve allora quindi la debolezza di gpb usd di gpb scusate del basket io la compro quindi euro gpb quindi vendo euro compro gpb gpb usd lo compro allora gpb usd e gpb yen se non sbaglio hanno una correlazione abbastanza forte però non mi ricordo quindi me la vado a guardare gpb usd e si hanno una correlazione molto forte del 95% quindi gpb yen me lo vendo sono a 458 di margine quindi qualche altra operazione forse riesco a farla e quindi gpb chf e gpb aud gpb cad allora vediamo gpb cad come è messo gpb cad potrebbe comunque adesso siamo su questa diciamo prima ondata ribassista però potrebbe comunque dare un respiro andare magari ritornare in questa zona qui su questi supporti quindi posso decidere di comprare gpb cad insomma aiutarmi anche un po' con l'analisi grafica proprio perché col termometro forex possiamo fare tutte queste cose vedete non ci ho messo tantissimo e quindi diciamo che il portafoglio è completo perché è raggiunto il margine se nel caso doveste vedere capita spesso adesso vediamo se lo fa in diretta che comunque può andare già in colorarsi di rosso questo terminale non vi spaventate perché comunque lo stop out di questo tipo di margin call arriva al 50% quindi questo controvalore questa cosa un po' non l'hanno capita i broker con l'esma non è che su ogni singola operazione mi viene fatto lo stop out ma sul totale quindi quando il controvalore arriva a 250 mi inizia a chiudere le posizioni perché il 50% della margin call che in questo caso è di 496 quindi più o meno di quell'importo allora poi vediamo adesso come va questo tipo di copertura quindi io ho rispettato diciamo le indicazioni del termometro Forex però ho dato dei filtri aiutandomi sia con l'analisi degli indici valutari presi da Mataf che con questo qui con l'analisi del cot che trovate su bar chart così rispondo anche ad Alessandro Alessandro purtroppo non è possibile credo che non sia possibile implementarli sul termometro Forex perché sarebbero troppi troppi dati e non vogliamo renderlo pesante però comunque ci sono questi siti che sono gratuiti quindi potete controllarli senza nessun non dovendo pagare nulla e quindi sono anche fatti molto bene quindi veramente in 5 minuti hai l'analisi del cot e poi ti devi spostare solo sul termometro allora purtroppo siamo andati oltre un'ora e non riesco a spiegarvi quest'altra strategia multi time frame però siccome abbiamo un appuntamento ogni mercoledì questa la spieghiamo mercoledì prossimo e quindi poi facciamo faccio vedere quella adatta ad un conto capitalizzato quindi un conto di circa 20.000 che cosa si può fare quindi partendo dal termometro H1 fino al daily questo però lo vediamo la prossima volta volevo aggiungere una cosa Giuseppe diciamo tutti questi dati queste domande insomma relative al termometro Forex cioè in linea di massima tutto si può fare tutto si può implementare però il gioco deve valere anche la candela è abbastanza veloce andare su un sito e vedere l'analisi del cot non ha molto senso che io ci dedichi lavoro per vedere un dato che potete benissimo vedere attraverso un sito un sito internet o per il resto tutte le personalizzazioni si possono anche prevedere ma facciamo un passo alla volta facciamo veramente un passo alla volta ok allora poi questa versione qui adesso la registrazione non so se sarà disponibile domani credo di no perché io sarò impegnato poi all'investing di Roma chi di voi verrà all'investing sarà un vero piacere incontrarvi di persona e quindi da settimana prossima poi damo una registrazione quindi funziona allo stesso modo che insomma che abbiamo fatto con con l'altro termometro forex quindi io lascerò la registrazione su facebook poi basta un commento comunque un commento su quella su quel post e poi vi rilascio la nuova versione e quindi allora rispondo un po' alle domande scusa che periodo temporale guardi il cot allora Danilo il cot non è che ha un periodo proprio temporale nel senso comunque le diciamo queste valutazioni delle queste indicazioni del cot vengono rilasciate settimanalmente e quindi quando comunque la peculiarità del cot è che quando si inizia una tendenza comunque rimane per molto tempo quindi anche se diciamo molti l'obiezione che fanno è che il dato arriva in ritardo comunque la tendenza rimane per settimane se non per mesi e quindi si può si riesce comunque a lavorare in modo abbastanza concreto con il cot e poi tenendoci conto anche che magari il filtro sull'indice vedere come è messo l'indice non è una cosa sbagliata perché il termometro forex mi dice ok l'euro è debole però mi piacerebbe vedere come è messo l'euro come indice vedete dove si trova quindi dopo 1 2 3 4 giornate ribassiste e tenendo conto che c'è stato tutto questo rialzo con il cot che magari i large speculators sono long io questa debolezza qui su euro dollaro su euro scusate basket euro posso anche decidere di comprarla non è sbagliata quindi secondo me crearsi un filtro è quello che sto facendo io personalmente non è sbagliato poi ovviamente anche salvatore se vi ricordate la settimana scorsa ci ho fatto vedere la strategia sull'h4 potete fare anche tranquillamente quella sono idee se voi avete anche altre idee in chat venite in chat così ne parliamo ve la giro in modo tale che chi vuole non riesco a inviarla a tutti perché aspetta vediamo un po' ok ok adesso adesso va è fatto sì ok allora quindi per l'indic per l'expert pensiamo a settimana prossima perché non non ce la facciamo per domani e quindi ci vediamo per chi di Roma da quelle parti all'investing e vi do appuntamento a mercoledì prossimo mercoledì prossimo parleremo a questo punto dell'altra strategia e vedremo se poi ci sono altri aggiornamenti sulle nuove funzionalità oppure grazie a tutti e vi auguro una buona serata buona serata a tutti e vi auguro una buona serata a tutti e vi auguro una buona serata Grazie.